Il progetto prevede la demolizione e la riedificazione di una parte dell'attuale struttura con l'ampliamento degli spazi, con la realizzazione delle scale interne di un ascensore per l'abbattimento delle barriere architettoniche, oltre che la realizzazione di un cappotto termico per rendere la struttura scolastica capace di non consumare energia, sia per l'affrescamento sia per il riscaldamento. Sono interventi che il nostro patrimonio edilizio scolastico ha bisogno da molto tempo e abbiamo colto l'opportunità che ci è stata offerta dal PNRR per intercettare questi fondi, nel caso di specie circa 1.700.000 euro, 1.300.000 euro solo di opere e alla fine quando andremo a collaudare la struttura, stiamo parlando di giugno 2026, avremo una scuola che avrà quasi il raddoppio della capacità di numero di alunni che possono essere ospitati per fare lezioni, secondo quelle che sono le normative moderne della pedagogia attuale che si applica e che è auspicata quando si realizzano nuove strutture. Sindaco, di fatto quasi tutte le scuole del territorio di competenza comunale saranno interessate da progetti più o meno grandi, quello più avanti ovviamente è il Rodari che è già ben avviato, insomma in qualche modo l'amministrazione vuole lasciare il segno, queste scuole sono state costruite più di 40 anni fa, si apre un nuovo ciclo? L'opportunità che ci viene offerta è un'opportunità che non potrà essere ripetuta a breve, forse eventualmente se ne parlerà tra i prossimi 40 anni, quindi questo è un treno che passa e un'amministrazione efficiente, un'amministrazione che vuole interpretare a tutto tondo la funzione per la quale è stata individuata e indicata da parte della cittadinanza, si deve spendere al massimo, al massimo delle energie e delle risorse per riuscire a raggiungere questo obiettivo ambizioso. Noi riusciremo alla fine di questo ciclo amministrativo a intervenire su quattro plessi scolastici in maniera compiuta e questo per noi è una grande soddisfazione. In generale ovviamente oltre alle scuole c'è una fase di transizione più che altro di progettazione anche di altre opere, in questo momento non ci sono molti tanti riattivi, però insomma penso anche a riva destra, oltre che ad altri interventi con il PNRR si sta lavorando ma a breve dovranno iniziare altre grandi opere, a che punto si? Ma noi sotto questo aspetto abbiamo in corso i lavori al teatro polifunzionale, abbiamo ripreso il secondo lotto dei marciapiedi su via Soghiuzzo, oltre che avere interventi su via Vecchia a Campagnano che sono ancora in corso. Vi sono progettazioni che stanno andando avanti per la realizzazione del parcheggio pluripiano davanti lo stadio Mazzella, dove abbiamo approvato da poco il preliminare che ci porterà a indire una gara per la progettazione e poi per l'individuazione della ditta che dovrà materialmente realizzare i lavori. A giorni si effettueranno l'inizio dei lavori nella zona della Baia di Carta Romana, dove abbiamo degli interventi per 2 milioni e mezzo diviso in tre lotti, in due di questi lotti inizieranno i lavori, in maniera tale che penso e spero quanto prima quel tratto di costa spesso utilizzatissimo dagli schitani e dai turisti che ci scelgono come meta per trascorrere le loro vacanze, saranno a spiaggia un tratto di costa che garantirà maggiore sicurezza rispetto a quello che invece è il pericolo di caduta massi che finiva per obbligarci a interdire una grossa fetta di quegli arenili dalla pubblica fruizione. Ma questi sono solo alcuni degli interventi sui quali stiamo lavorando e avremo modo per ragionare la cittadinanza e la nostra comunità di quella che è l'attività incessante che stiamo portando avanti.